In agosto, quindi novità fresche 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 da parte di Microsoft, punto numero uno hanno pubblicato una guida per fare un risk assessment sul tenant. Guardatela perché è veramente fatta bene, piena di informazioni che ci riescono a spiegare come approcciare dal punto di vista corretto l'adozione di Copilot, non solo per la parte di formazione ma anche per la parte di verifica del tenant, assessment, mitigazione di tutti quelli che sono anche magari le aspettative e le domande che hanno i vostri colleghi, lato privacy, compliance, security, guardatela è ben fatta. Poi hanno aggiunto nuove lingue nel supporto Copilot, sono 12 in più e quindi se non mi sbaglio siamo arrivati a una quarantina, io contavo 39, 27 l'anno prima, dovrebbero essere 39. diciamo più o meno una quarantina. Arriveranno a settembre, quindi inizierà il rollout a settembre e tra queste c'è il croato, c'è il greco, c'è il serbo, insomma stanno aggiungendo un po' tutto quanto. Poi hanno integrato la dashboard di Copilot di Insights con VivaGlint e VivaPulse. Questi due tool sono due moduli di Microsoft Viva che ci permettono di recuperare feedback dai colleghi e quindi fare dei survey. VivaGlint soprattutto ha all'interno del suo set di domande prestabilite anche tutte le domande per valutare l'adozione di Copilot. fantastico perché finora abbiamo dovuto fare tutti i form manualmente per valutare l'adozione di Copilot, invece adesso per quei clienti che hanno scelto di acquistare la licenza di VivaGlint abbiamo la possibilità di fare il form di verifica dell'adozione e direttamente da lì con la possibilità poi di valutare i risultati per area aziendale, per gruppo, per dipartimenti e così via. è un'ottima cosa questa, così come è ottimo il fatto che Copilot finalmente è arrivato in general availability nei tenant, quelli governativi, quindi per US ma non solo, anche GCC, buona cosa questa. ma soprattutto finalmente dentro Outlook, quindi quando faccio domande alla barra che c'è sulla destra in Outlook che è nuova, ho la possibilità finalmente di recuperare informazioni in modalità conversazionale anche in mail che sono in mailbox archiviate. che questa era una delle mancanze che si è stata fino adesso, è in corso di rilascio, inizierà a settembre il rilascio. Qui secondo me diciamo le cose importanti sono questa appunto del ricerca conversazionale su gli archivi di mail ma anche la possibilità di uno, avere più caratteri nel prompt. siamo passati da 2.000 caratteri a 16.000, buono perché per certi prompt molto complessi li potevi poi lanciare solo su copilot.microsoft.com e non nelle varie esperienze di Copilot per Microsoft 365, quindi nella chat, su Outlook, su Word e così via. e poi soprattutto avremo la possibilità che questa è stata una richiesta che noi almeno abbiamo ricevuto in tutti i nostri percorsi formativi che abbiamo fatto e che stiamo facendo con i nostri clienti, la possibilità di dire nel prompt guarda solo i file di quel gruppo Teams oppure di quel sito SharePoint oppure di quella cartella, di quella document library. così da restringere quello che è il cono di visibilità che ha Copilot. Ad oggi per coprire questa necessità abbiamo dovuto sempre implementare dei chatbot personalizzati che magari rispondevano solo sulle procedure aziendali oppure solo sul set di documenti che voleva il cliente. in quel caso un po' abbiamo diciamo fatto con Copilot Studio, però in realtà alla fine la scelta migliore è stata diciamo di fare il chatbot personalizzato con Azure Open AI e la possibilità quindi di fare la ricerca conversazionale sui documenti che venivano indicizzati da SharePoint o dal file server, dopo lì li possiamo indicizzare dove vogliamo. se siete interessati a questo scrivetemi perché c'è un caso d'uso che ormai abbiamo fatto su diversi clienti. chiaramente questo caso d'uso è ancora valido anche dopo questo aggiornamento perché le aziende non danno Copilot a tutti, mentre invece se tu vuoi dare il chatbot per la ricerca conversazionale a tutta l'azienda puoi farlo anche senza dare la licenza di Copilot usando Azure Open AI come motore di ricerca conversazionale. bene, abbiamo poi la possibilità in Word di utilizzare Copilot nel momento in cui faccio copia e incolla di informazioni. vedete qua l'esempio, lui ha preso un contenuto testuale che in realtà era una tabella però malformattata così, ha fatto incolla di questo contenuto su Word e quando c'è incolla ci sarà insomma un'opzione specifica che è incolla con Copilot. incolla con Copilot e lui ti dà informazioni tipo guarda quello che hai incollato fammelo diventare una tabella, fammelo diventare una lista, proponimi una riscrittura del testo che ho copiato e incolla il testo e poi scrivi subito un prompt per migliorare quel testo lì. buona cosa questa. Per chi usa Forms per la parte formativa c'è adesso la possibilità per chi ha Copilot di avere l'explanation in base alla risposta giusta o corretta che sia quando tu dai il quiz. carino questo. Poi finalmente nelle chat di gruppo che cosa che non era possibile ad oggi è possibile adesso invece fare dei prompt basati sul tempo quindi no dimmi quello che era stato deciso a marzo, fammi un recap dell'ultimo mese, fammi un recap degli ultimi sei mesi oppure chi è che ha fatto la tal domanda a dicembre. cose che diciamo si possono fare in altri contesti adesso si possono fare anche nelle chat di gruppo private quindi con più persone anche in teams e c'è questa aggiunta che secondo me è utile sapere perché nel Copilot Lab hanno aggiunto dei prompt non solo per generare nuovi contenuti per fare ricerche quindi casi d'uso generici ma anche casi d'uso specifici per delle funzioni aziendali specifiche quindi per le vendite per le human resources anche ho visto e in più anche per settori specifici di mercato no c'è l'energy e così via finance. Devo dire è un primo approccio da parte di Microsoft nel Copilot Lab quando arriverà il mio libro che sarà su Amazon ma anche su tutti gli altri store sia online che fisici ho messo ben 100 casi d'uso di prompt funzionanti che noi stiamo presentando chiaramente a tutti i nostri clienti divisi per una funzione aziendale quindi dateci un'occhiata. sono solo 100 degli oltre 400 erotti che abbiamo su copilotcircol.com a cui potete accedere contattandoci.